Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Valuteremo in questi giorni perché non riusciamo più ad essere così incisivi. Ripeto, dobbiamo vedere se è una questione a livello atletico o se è una questione a livello mentale dove magari in queste ultime due partite ravvicinate così non siamo riusciti a buttarla dentro. Non dobbiamo perdere la fiducia, assolutamente non va persa la fiducia. Dobbiamo lavorare, siamo dispiaciuti come sempre. La positività che ci ha contraddistinto da quando siamo entrati noi deve continuare, deve essere la nostra forza. Ci dobbiamo credere perché abbiamo le qualità e i mezzi per crederci. Ripeto, il rammarico c'è sempre perché ci chiamiamo Samb e quando indossi questa maglia qua il pareggio non è vissuto in maniera serena. Questo però non deve farci perdere la serenità, dobbiamo essere forti nel restare calmi. Volevamo vincere a tutti i costi, purtroppo abbiamo preso questo punto che non volevamo, però non siamo riusciti a segnare. La partita c'è stata, abbiamo dato tutto, però ci è mancato qualcosa davanti, quello ultimo tocco a qualcosa. Penso che se segnavamo primo tempo sarebbe stata tutta un'altra partita. Il play-off ha un obiettivo che resta al momento? Certo, certo. Resta, resta. L'obiettivo è il play-off, sicuramente. Questa squadra va a giocarsi le partite e meriterebbe qualcosa in più. Io penso che anche oggi qualcosa in più meritavamo se andavamo in vantaggio. No, che devo dimostrare, 62 anni ancora devo dimostrare. Penso che io dove sono stato, è stato qui un momento difficile per la società, per i presidenti e per tutto. Però ho garantito una cosa, la serietà.